Eh picciotti, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo video ragazzi da TechNegend con noi chichino, chichino, chichino Ragazzi benvenuti, allora buon lunedì a tutti innanzitutto e poi che innanzitutto facciamo oggi un Kaiser Perché? Ora vi spiego, siamo giunti, eh raga, eh sì, purtroppo siamo giunti, ecco qua, vedete, vedete, vedete Siamo giunti, siamo giunti, perché siamo giunti eh, non è che dice giungete solo voi, siamo giunti alla fine della serie Perché? Perché non abbiamo raggiunto l'obiettivo eh, non abbiamo raggiunto ancora l'obiettivo Ma è roba di qualche ora e lo raggiungiamo, perché vi ricordo siamo in un server e molti ci hanno detto Luke, perché non stop i macchinari quando chiudi il video, almeno dura di più la serie Eh raga, l'ho capito però, eh, ci metterei un anno l'ora a macinare la roba Almeno che, almeno che, almeno che, e poi un'altra cosa, io volevo continuare la serie, volevo farvi un regalino E dirvi, vabbè, non completiamo più la serie a raggiungimento di 4.816 Red Matter, blocchi di Red Matter Ma sarei andato avanti a fare altre cose, ok? Era un regalo Il problema è che il server non ce la fa raga, non ce la fa Perché se aggiungessi un altro timer in questo momento Esplode tutto Veramente, cioè non ce la fa raga, fidatevi di me, non ce la fa Cioè, io non so se rendete conto di quanto roba abbiamo Il problema è che vorremmo, dopo di questa, magari un altro episodio lo facciamo dopo di questo ragazzi Per cui, vi ricordo, settevi una like nel prossimo episodio Magari possiamo fare ancora uno, barra, anche due episodi Però è giusto perché stiamo proprio macinando, macinando e stiamo arrivando a 121 milioni di MC Quanti ne abbiamo di Ambaradam qua? Siamo già a 2k, è tutto rincoglionito E raga, non è la colpa nostra, ma è colpa che il server proprio non ce la fa Io vado a 30 fps, 42 in questo momento, cioè, proprio scatto È quasi impossibile Vorremmo iniziare, per esempio, una nuova serie Questo, su questo, dovreste darci voi tanti enormi consigli nei commenti E beh Su quale tipo di serie cominciare, magari una tech hit un po' più vecchia, una tech hit un po' più nuova E eccetera eccetera, bla 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 Magari con altri obiettivi E vedete voi, sbizzarritevi nei commenti ragazzi Ascolteremo tutti voi e faremo un frullato di tutti i vostri commenti E poi faremo un nostro resoconto E ve lo diremo magari nei prossimi episodi Ora oggi, raga, visto che abbiamo 120 e passa milioni di MC Io vorrei, 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 vorrei regalarvi almeno l'ultima armatura della Red Power Perché è... della Red Power Della Red Matter Della Project A, ragazzi, mamma mia L'ultima armatura si crafta in questo modo Perché cominciamo con fare due Omega Due Omega che già, madonna, due Omega Uh, due Omega Aspetta, una la posso fare Io ce l'ho una, eh E dammela, 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 dammela Eh, c'ho la mia, tieni Dammela e dammi tutta la tua armatura Ok Però entro oggi Tieni, 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 tieni Ok, thank you man C'hai pure 69, ma cacchio Spenditi, spenditi Ok, allora Due di queste abbiamo detto Poi mi servirà, raga, guardate qua che cacchio mi serve Ragazzi, ci prendi la mano Almeno a dirmi cosa serve Almeno fa qualcosa Allora, serve, serve Due Red Matter Red Matter Me ne servono Uno, due, tre, quattro Poi mi servono Allora Lapiscazzoli Lapiscazzoli Uno, due, tre, quattro Cosa stai facendo? L'elmetto? L'elmetto? L'elmetto Poi mi servono Sei, dodici glowstone Dodici glowstone E due lapislazzoli Le presi due lapislazzoli? Tipo, ho già finito Perfetto Adesso devi fare Eh, perché tu non puoi fare No, devo fare io Ah, no, lo faccio anch'io Ah, ok Però non c'è più Allora, così Così No, così E così No, così E così Ok, uno Da, mi manca una glow Ah, ok, è qua E due I due aneschi L'ho fatti I due aneschi L'ho fatti Che fai così Sono i soulstone Soulstone Non mi ricordo che servono Sarebbe figo magari farle una volta Spiegare cosa servono E poi fare gli anelli E le cose Vabbè, ormai ragazzi Siamo qua in ballo Balliamo Siamo ricchi Ricchissimi Mi butti addosso Sei red matter E dark matter Allora, sei dark matter Dark matter Voilà Sei One, two One, two One, two One, two One, two Click Click Bravo Grazie Ok Allora, io penso a fare già il resto Mi servono E vabbè, no Non ci riusciamo mai Sai che nonostante siamo ricchi Ragazzi, non ci riusciremo Eh Le body stand Mi servono il sugar 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 Me ne serve il sugar Mi serve il sugar Dove sta il ferro qua? Poi mi serve Il sugar Due red stand Red matter Red matter Red matter E poi mi serve Uè, amico Mi serve Uè 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 Lapiscazzo Lapiscazzo Allora Venchi Venchi Terun Che ti serve Cip l'acqua No, sto prendendo l'acqua Sì Dove stavi prendendo l'acqua Giusto per sapere Da fuori Non c'ho più l'Omega Me l'hai fregata tu? Eh, sì Perché sai Andare fuori E prendere l'Omega Che fuori sta caricando Faceva male il culo Ah, è che ne sapevo io Che ce n'era una È che Sai, guardare magari L'ho sempre messa lì In 34 episodi Sai com'è Ok Fatto, fatto Forca di quella Pazza Ok Allora One, two One, two One, two E one, two Boom E one, three E ballaccio Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Aspetta un attimo Che non c'ho niente ancora Ah, ok Perfetto Allora One, two E one, two Non va One, two One, two One, two E one, two Free Voilà Fatto Raga Abbiamo il cappello Questo cappello ci permette di volare Ah, no Quello è l'anello No, no Ma sempre che parli Mamma sempre che parli Guarda Allora Mi serve Mi serve Questo qua lo avevo già fatti O no L'avevo già fatti Che cosa Ci prendi i prossimi materiali Fai qualcosa Già sto facendo Già sto facendo Uno Mi serve la lava mo Due Poi serve Allora L'Omera Poi serve Allora Tre Quelli E la lava Tre quelli E la lava Lava Lo sto facendo io Quello Lava Un, due Tre Quattro Allora Uno Allora Red matter One, due Three One, due Three Four One, due Three Four Five One, due Four Five Six Six Poi Allora Mi serve Questi qua Due Red matter Bambete E bambete E poi Fiappota Uno Lapis Due Lapis Lava Tre Quattro Cinque Sei Bande Vande One 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 Two Three One Two Three Four One Two Three Freak Ok Si Abbiamo lo zucchero Noi Ma vaffanculo Cip Vaffanculo Mi serve lo zucchero Tocco Ma che stai facendo Ma che stai facendo L'armatura L'armatura Il pezzo Le ho già fatti Quelli I rubstone Le ho già fatti I rubstone I bodystone Semmai I bodystone Le ho già fatti Ah ok Non aspetto mica a te Ok Oh stai calmo Omega Ne posso prendere due Yeah Una E una due Abbiamo finito Le MC Perfetto Fantastico Allora Allora Ah mia Che palle Però non posso farli One Two Three One Two Three One One Two Three One Two Three One Two Three One Two One Two Caccia sta One Two Three Four Fai Eccolo qua L'armatura Fatta Mambe te Mamma 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 Guarda i gambali I gambali I pantaloncini I pantaloncini I pantaloncini Vabbè no Altri due Omega Sai che devo fare No raga Devo arrivarci qua Allora si Prendo uno stack Di red Metto E lo vendo Quanto vale 119 milioni Perfetto Omega Omega Allora I pantalacchi I pantalacchi Allora Dark Mi serve Allora Del filo Del filo Che si chiama Filo Si chiama String Ah ok String strong Aspetta String Ecco Te lecchi Allora string I pantalanzi I pantalanzi Poi si fa questo qui Che questo qua ce l'avevo L'iron band Ce l'hai Dark matter Iron band Iron band Iron Iron band Iron band No io l'ho fatto imparare L'iron band Ma come stai Dark matter Solo iron Mi serve Iron Questo qua è l'anello Che butta la lava Lo sai Mamma mia La volcanite Ma tu sai che grazie alla volcanite Potevano fare L'ambaradam di lava E togliere tutto l'impianto Che c'è sotto Tu non lo sai questo No Grazie alla volcanite E grazie alle verdite Vabbè no io non lo so Lu mi prendi un dark matter Per favore Ma che palle che sei Sto nella crafting Vai butta Ma che stai facendo Fai capire Allora sto facendo Sto facendo L'orologio Ma stai fermo Ma stai fermo un attimo Ma stai fermo un attimo Sto fermo Ma sono i miei Ma che cazzo Ti togli Che ne so Che stavo facendo Eh l'orologio lì Come cazzo Ti chiamo Aspetta mi serve la glowstone Ok Eh vabbè E mi serve E mi serve Mi serve L'orologio Quanto sei lento Qua mi serve L'obsidiana Allora Obsidiana Fly Obsidiana I fliegte I fliegte Ma come si chiamano Ma questi Come si chiamano Questi Ma Come si chiamano Questi Che cosa I theater Theater Eh vabbè Theater Ok questi qua Ok Poi mi serve No aspetta Che hai fatto Ma questa c'ha l'amma Ma questa c'ha l'amma Allora mi serve Allora io Le prendo Uno Due Due Tres Quattro Quattro Ma c'ha l'amma E un redstone Fatto Aspetta E due omega Ok Omega Uno E due omega No vabbè C'è tutto Dai che ti manca C'è tutto Dai Aspetta E dai E va Van Gould Vai Una Allora questo va al centro Ok Poi va Le Questo Poi va Gold Erano i pantaloni E poi serve Questo qua Che ne devo fare Due Aspetta un attimo 280 Aspetta La prendo io Vai Fatto Perfetto Mettiamo qua One two One two E one two One three One three Che mancava Che mancava Ancora un altro Orloggio Lui Vabbè sei coglione Uno l'hai fatto Solo per te Pensi No Aspetta Aspetta Non ci credo Aspetta Aspetta Che poi siamo coglioni Togliti 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 Ti devo togliere Guarda qua Siamo dei coglioni Siamo dei coglioni Ne bastava fare una E poi l'altra la copia Ma no Eh vabbè Fatto Siamo dei pigliarli però Togliti Butta Ok Buttaio Allora adesso Per esempio Gambali Allora i gambali Uno due Tre quattro Fatto uno E fatto E no Copialo E fatto l'altro Tieni qua No raga Allora Io ho tutta la matura completa Abbiamo tutta Allora Ma quando corriamo E a parte che corriamo veloce Madonna mia Corriamo veloce Non abbiamo danno alla caduta Saltiamo in alto Voliamo Senza anello Questo è un salto Non è un volo Ah un Eh vabbè Sì Ciao Prova a saltare senza volare Sto vedendo Non riesco a ritornare indietro Voli Salti lontano Guarda Ma che cosa E in poche parole In questo momento Siamo immortali Ah siamo immortali Sì Entro nella lava Guarda Dove sei? Di là Ah Non è che io entro nella lava Io non potrei mai entrare nella lava Per Ah eh Perché grazie a quell'anello Con il coso Camminiamo sulla lava Camminiamo sull'acqua No Che storia Camminiamo sull'acqua e sulla lava Siamo Gesù Ecco Guarda Ma che storia Sto bruciando eh Sto bruciando Cipo No Eh non morirò mai Non morirai mai Sono invincito Sono imbattito Sono mortale Basta Tu cammini sulla lava Io sì Se clicchi Shift Scendi Shift È vero Anche sull'acqua Dovrebbe essere uguale No che figata Sì Non moriremo mai più Cioè Avete capito perché non ha senso nemmeno Andar avanti in questa serie Tanto vale ci mettiamo in creative E costruiamo in creative A sto punto sì Siamo invincibili Ma tutto questo grazie a noi Cioè tutto noi abbiamo creato Noi abbiamo creato Pittopo Gigio Allora tutta questa roba Non mi serve Ah io mi devo svuotare Un attimo l'inventario Allora infatti Tutta questa roba Non mi serve Via l'anello Che vola Via la clay Cosa Via tutta questa roba Aizza quanta roba Aizza quanta roba Aizza bombanti Io ancora c'ho un maceratore dietro Te serve E poi questa armatura Vado a farla prima Per correre veloce Vuole fare una corsa Fino al query Andiamo Vai Vuole salutare il query Sinceramente raga I query giganti Non ci sono serviti A un cazzo Sinceramente Mamma come cacchio Salto Fanciullo Eh vabbè Sì 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 Ciao Eccoli qua i query Eccoli qua i query Volendo non ne ne chiamo più In tre secondi ero giù Click a shift Ti porta direttamente alla fine No che figata Che minchiata No no che figata Ma che minchiata Perché Eh perché Perché Ma adesso io In poche parole Non posso più camminare Sì Sì Sono Gesù Sono Gesù Ma che figata Non sto volando eh Sono appoggiato all'acqua Sì sì anch'io Dai che storia Storiata Che storiata Bellissima sta armatura eh Che storiata però È un po' p Però È carina dai Ragazzi Questo video è cortissimissimissimo Lo so E ci dispiace Sai che vorrei fare Io in questo episodio Che cosi Dimmi Gicco Ma se mi butto giù Cado dentro la lava O mi parcheggio sopra Eh buh Prova Non premere shift Mentre cadi Perché Perché arrivi in 3 secondi Di attimi giù Guarda Premo shift Sono già giù Eh No raga Mamma mia Si bugga anche Sì sì è vero Si bugga Troppo veloce Allora ragazzi Volevo fare un impianto Per Ma che cazzo è successo Cos'è fatto Ho spinto la pecora E' sparita la pecora Ma no è qua davanti Ma la spingo Oh Come hai fatto Con shift Con shift Allontaniamo i mob C'è quell'anello lì Guardalo Si con shift No Che figata No vabbè raga Volevo fare l'impianto delle pecore Che ogni pecora ha il colore diverso E coloravamo tutti i colori Ma Che autaglio automaticamente la lana Che figata Quell'impianto lì Era bello Era bello Aspetta c'è qualcosa che non va Che cosa Io sto andando all'indietro Non so come No è vero è vero Lu E' il salto quello Il salto è troppo lungo E' il salto è troppo lungo Non premere shift mentre vuole Mi raccomando Non l'ho dimenticato Guardiamo Boom Ok fatto Ragazzi siamo giunti alla fine di questo video Anche oggi Un bacione Un abbraccio Ci vediamo al prossimo video Che comunque Il finale Scoppiettante ci sarà Magari con qualche TNT Non lo so No Vedremo Fate Comunque Noi siamo ansiosi Di ascoltare tutti i vostri commenti E consigliateci cosa fare Noi vorremmo tanto Continuare da questa serie ragazzi Ma Fare un mini impianto O ancora Vuol dire Far esplodere il server Perché non ce la fa Tutti questi timer Non ce la fanno Ma non è colpa del server E' il pacchetto E i timer Che sono logicamente Buggati Come i vecchi tempi Un bacione Un abbraccio Da LukeChip E Ciucchino E tutto Ciao Ciucchino Ciao a tutti Ciao ragazzi Ciao a tutti ieri Ciao a tutti ieri